Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Aera Ovest Ponsacco e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Spostandoci in A1, rallentamenti per una perdita di carico tra Calenzano, Sesto Fiolentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Prestare attenzione al personale su strada tra Chiusi Chianciano e Fabro in entrambe le direzioni. Guidare con prudenza per vento forte tra Chiusi Chianciano e Orte. Attenzione a una perdita di carico accidentale tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Sulla statale Trebbistiverina tratto chiuso per lavori tra i chilometri 162-800 e 168-200 tra Canili e Verghereto in direzione Ravenna. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie e buon viaggio!